le montagne lecchesi stanno accogliendo tanti escursionisti anche in un periodo segnato dalle zone rosse sono molti i lecchesi le persone che si stanno recando sulle nostre montagne noi siamo qui nella sede del soccorso alpino con il vice presidente regionale luca vitali e anche con il capo stazione di lecco massimo mazzoleni tante persone però non sono molto responsabili c'è stato anche un assalto all'attrezzatura da montagna perché diciamo che la situazione è questa molte persone stanno scegliendo questo tipo di escursione sì in questo periodo anche noi siamo stati informati dai negozi di articoli sportivi che hanno avuto un estremo aumento delle vendite di attrezzature di sci alpinismo escursionismo ciaspole via dicendo probabilmente è dovuto alla situazione che molte persone che frequentano gli sport invernali sugli sci con gli impianti chiusi hanno ben visto per continuare un'attività diciamo sportiva di attrezzarsi per andare poi a fare delle escursioni il problema di fondo è quello che comunque sia le escursioni diciamo di bassa montagna dove si aggirano diciamo da una quota di 350 400 metri fino ai 700 800 metri diciamo all'arrivo in questo caso qua nelle lecchese abbiamo un'area molto frequentata che quella da che parte dalla località di versasio e va fino all'arrivo della funivia dei piani d'erna lì ci sono molti itinerari escursionistici che d'estate sono molto belli frequentati ombreggiati e quant'altro ricchi di vegetazione panorama e d'inverno la situazione non è semplice nell'affrontare queste escursioni perché comunque sia si trovano diciamo delle situazioni del terreno con terreno ghiacciato in nevato per cui queste persone con poca esperienza magari sbagliano l'attrezzatura sbagliano la tempistica per cui si trovano in difficoltà sia in salita che in discesa per cui per noi questo è un problema perché comunque sia anche per noi è difficile andare a intervenire su un terreno del genere perché comunque anche pure essendo attrezzati e preparati diventa sempre difficoltoso perché un conto andare di persona in maniera singola a fare una camminata è un conto andare con una squadra di 5 6 persone per portare un ferito a valle con una barella con tutte le tecniche bisogna utilizzare e soprattutto con un terreno molto instabile anche per noi nella funzione di eseguire diciamo l'operazione tant'è vero che quasi sembrerebbe quasi assurdo ma è così le condizioni metodo della bassa montagna sono quasi più pericolosi in questo periodo per le temperature per le condizioni del terreno rispetto a quelle di media o alta montagna perché ovviamente di media alta montagna ci sono gli alpinisti preparati che a quelli a noi non dobbiamo spiegargli nulla perché sono perfettamente preparati fanno tutti i loro calcoli tutte le loro previsioni si documentano si informano capiscono quando è il momento di fare certe cose per cui quelli ci preoccupano meno di fatti abbiamo veramente pochi interventi da quel punto di vista lì invece sulla bassa diciamo sulla bassa montagna diciamo che abbiamo un po di difficoltà non dovute a noi ma dovute proprio al territorio alle persone che sono impreparate su queste cose qua ecco proprio parlando di numeri gli interventi sono aumentati anzi sono rimasti diciamo costanti nel 2020 passato sembra strano ma è così e sono leggermente più alti del solito in questo periodo sì perché come diceva massimo prima la gente si sta muovendo tanto nonostante le restrizioni poi in ospetta soccorso alpino giudicare se siano spostamenti leciti o meno so cosa pino non fa non fa da guardia ma fa soltanto prevenzione dove può fare prevenzione e fa soccorso dove è necessario che faccia soccorso chiaramente le persone che si stanno spostando si spostano su quote medio basse che in questo momento presentano le condizioni più difficoltose perché c'è molto ghiaccio e paradossalmente molta meno neve per cui è più facile trovarsi in difficoltà anche su itinerari veramente semplici il territorio lombardo è abbastanza complesso perché passiamo da montagne basse o zone poco più che collinari fino a montagne di 4000 metri il berlina e 4000 metri chiaramente come diceva lui ci sono persone preparate che vanno a fare attività ma c'è tanta tanta gente che si è improvvisata in questo tipo di attività andando a comprare materiale senza magari sapere che cosa compra e come puoi utilizzarlo ecco sono anche chiusi i rifugi che sono molto spesso utilizzati proprio da da questa categoria di escursionisti che magari possono trovare anche un ricovero nel corso della giornata nel corso dell'escursione soprattutto con temperature molto basse sì i rifugi sono quasi tutti chiusi poi ce n'è qualcuno che sta aperto quando nel momento in cui può stare aperto facendo magari un servizio d'asporto chiaramente non è la stessa cosa perché non si ha quell'appoggio che si avrebbe magari in una situazione normale quindi non in questa fase pandemica che stiamo vivendo ecco proprio dal punto di vista degli interventi abbiamo detto che sono aumentati e che voi vedete questa irresponsabilità molte volte nelle nelle persone che andate a soccorrere si responsabilità o incoscienza tante volte proprio il non sapere cosa si va a fare convinti magari di fare una una passeggiata o comunque un'escursione molto semplice e invece ci si trova in situazioni in attese e impreviste mi viene in mente settimana scorsa una ragazzina che è scivolata appena sopra l'abitato di lecco su una mulattiera che normalmente è semplicissima veramente un'escursione per famiglie per per bambini anche piccoli ma con le condizioni che ci sono oggi c'è molto ghiaccio e si fa fatica a stare semplicemente in piedi a camminare tant'è che un nostro medico che era in giro a fare una passeggiata a sua volta si è trovato a dover intervenire su questa ragazzina che è scivolata e si è fatta male ecco come si potrebbe chiedere magari agli escursionisti di fare più attenzione secondo voi c'è una soluzione o comunque si potrebbe fare qualcosa per limitare questa affluenza di persone che magari non conoscono l'escursione a cui vanno incontro o magari per sensibilizzare ma allora diciamo che la libertà di andare a spasso a fare un'escursione o fare una salita o via dicendo è ovvio che non è compito del soccorso alpino diciamo monitorare questa situazione o comunque fare delle restrizioni ce ne sono già fin troppe per cui è meglio lasciar perdere quello che noi consigliamo è quello comunque sempre di chiedere informazioni che ci sono i professionisti della montagna le guide alpine che fanno questo di professione vivono di questo sono tutte persone altamente professionali hanno diciamo in maniera giornaliera monitorata la situazione di ogni montagna che circonda il lecchese o anche altre se vogliono andare a fare delle escursioni più fuori porta diciamo per cui io come tutti noi consigliamo sempre di interpellarle poi a maggior ragione persone che si approcciano in questo momento per le prime volte a queste escursioni e via dicendo magari possono essersi possono farsi anche accompagnare poi con l'esperienza possono anche decidere andare da sole o comunque magari trovare una persona di esperienza che un amico che ha già fatto questa escursione sa come sono le condizioni sa quei tempi che ci vogliono che tipo di attrezzatura cercare magari di chiedere non una volta magari anche due se hanno dei dubbi o delle perplessità e andare a sviscerarle altro discorso è quello di tenere molto presente il meteo il meteo che fa molto la differenza in questo periodo sia da un punto di vista di temperature che di meteorologia cioè c'è il vento non c'è il vento perché anche le temperature col vento cambiano cioè le temperature percepite col vento sono molto maggiori rispetto a una temperatura reale e altano tantissimo le condizioni del terreno perché se magari nel pomeriggio esce un'acchiata di sole c'è il famoso disgelo la notte la temperatura si abbassa si riforma il gelo col vento lisciando viene a crearsi del ghiaccio per cui magari uno è andato il giorno prima a fare questa escursione al pomeriggio dice ma vai tranquillo puoi andare con le scarpe da ginnastica questo va la mattina la mattina c'è un dito di ghiaccio e il primo passo che fa questo va in terra e ovviamente si può procurare anche diciamo dei danni per cui dei danni comunque creando un incidente e per noi dopo diventa un problema nel senso che è un problema perché il sabato e la domenica come tutti sanno noi precediamo le montagne con un centro operativo dove siamo in questo momento con delle squadre già pronte e delle seconde squadre di supporto per intervenire ma durante la settimana dove comunque c'è persone che o perché sono a casa dal lavoro o perché sono in pensione o perché sono in attesa di qualche altra cosa vedono la bella giornata vogliono andare durante la settimana tutti i volontari del soccorso alpino essendo volontari hanno un'attività nel senso fanno e lavorano per cui ora che riorganizziamo diciamo che i tempi si dilatano per cui se uno ha un problema serio diventa poi un problema anche per lui e per cui quello che noi sensibilizziamo cerchiamo sempre di dire innanzitutto di non andare mai da soli perché questo è fondamentale perché se uno si fa male per lo meno c'è un'altra persona che la può in quel momento lì se dovesse esserci un incidente può assisterlo e può diciamo intervenire di prima battuta dandoci delle indicazioni che sono fondamentali per noi per abbattere i tempi di intervento secondo controllare sempre il meteo e verificare le condizioni e sapere benissimo diciamo lo svolgimento della gita da un punto di vista di tracciato perché c'è molta gente che parte su un sentiero convinto che è quello che lui aveva studiato a casa e invece in realtà si trova da un'altra parte per cui anche questo è il nostro problema che molta gente va per andare diciamo al pianiderna tanto per fare un nome non c'è un sentiero ce ne sono dieci problema che partono tutti dal parcheggio della macchina della funivia dove c'è Versasio per cui magari da lì partono sette otto itinerari e uno dice sono partito da lì sono andato a destra sono andato a sinistra sì a destra ce ne sono tre a sinistra ce ne sono quattro per cui per noi sono tempi che per noi se sappiamo dov'è arriviamo immediatamente se dobbiamo capire e cercare ci vuole molto più tempo per cui per uno che si è fatto male capisco benissimo che magari si può anche non dico arrabbiare però perché non ci vede arrivare però il problema che noi abbiamo bisogno del tempo e soprattutto dalla collaborazione e la prima collaborazione che la gente che vada in giro sia preparata tutto lì una ultima battuta proprio in un secondo che 2021 vi aspettate per la per le montagne lecchesi ma allora le condizioni meteo sono fantastiche nel senso che c'è tantissima neve cosa che anni che non avveniva per cui ci abbiamo tutti gli sci alpinisti che sono in fervore che vogliono andare a fare le salite sulle nostre montagne abbiamo i canali completamente pieni di neve che si stanno portando nelle condizioni buone perché ancora no perché non sono ancora nelle ottime condizioni perché quelle temperature che ci sono stati gli sbalzi termici di settimana scorsa i 20 hanno creato un po di dissesti per cui i canali non sono ancora diciamo perfettamente percorribili ci sono ancora dei gradi diciamo di pericolosità abbastanza elevati il 2021 speriamo che le persone abbiano anche l'accortezza magari oltre aver la voglia di andare in giro magari crearsi la voglia di documentarsi di prepararsi fisicamente e di essere magari un po più umili prima imparare a fianco di qualcuno che è in grado e poi andare da soli ripeto da soli significa fare una gita almeno di due persone perché il solitario se si perde è difficile che poi dopo possiamo andare a cercarlo allora noi ringraziamo massimo mazzoleni capo stazione scorso alpino di leque luca vitali vice presidente regionale per averci parlato e spiegato cosa sta succedendo sulle nostre montagne